Bentornati amici su Giovi HD Spoil, io sono Giovi Sposson, un vostro amico, amico di tutti e di tutti, e di tutti, e di tutti Siamo qui con questo video, nuovo video, di domenica, di domenica sì perché ho intenzione di fare una rubrica domenicale Una rubrica di question and answer, risposte e domande, risposte, di domande, risposte Voi domandate, io rispondo, commentate qui sotto con le vostre domande, fate domande, quel che volete, domandatemi ciò che volete voi Se vi interessa sapere qualcosa di me, del mio pensiero, la mia opinione su qualcosa, per esempio sulla politica, anche se la politica Un argomento top secret, top secret Comunque, fatemi domande, commentate nei commenti, è naturale, dove dovete commentarli Oppure cercatemi su Facebook, troverete il link in descrizione, commentate, mi invito la terza volta, ve lo ripeto Ripeto che la terza volta, commentate con delle domande che vorrete, volete farmi, che volete pormi Sarò lieto di rispondervi nel prossimo video, che sarà domenica prossima Quindi sarà una rubrica domenicale, ogni domenica questo video, quindi domande e risposte Dunque sbizzarritevi con le domande, mi invito a commentare per la quarta volta Sarà una brutta volta, non vi preoccupate, per la quarta volta commentate, questa è la quinta, con domande che volete fare Internalmente potete sbizzarritevi, sbizzarritevi, chiedetemi ciò che volete Io sarò il reto di rispondere ai vostri dubbi per perplessità, incertezze Ebbene ragazzi, ciao!